Allora ok ok a questo dovrebbe essere divertente vediamo Mi stavo scarpucciando l'oltre La grotta, l'ingresso grotta Ok però la moda è arrivata Tre ponti No 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 Ok L'ingresso a posto No 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 Delizio No 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 Oddio che posizioni brutte Ebbò Vabbè non smora Un radar docchio Ma non c'è un hit player? Vedo Ok Un radar docchio Ok non so perchè prima del hit player le lascio inserire Vabbè Guarda il volume è molto forte Non è strato Vabbè I golfe Non è strato Vediamo Vabbè Si consuma, non è che puoi giocare all'infinito Deve aspettare che si ricarica Quello è lì per tutta la gara, a me non mi interessa Ecco, devo cliccare per forza Bruttacine Ok 5 ogni volta ti fanno iniziare dal check e va bene mi sto dicendo come stai a dire Mirella E' addirittura 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 un po' l'esercito soccorso che ci ha spinto ehii una grazia il ca' è un po' di stelle il ca' è un po' di stelle il ca' è un po' di stelle questo è il cervello è il jackpump ehiiii nooo quindi se non ho creta tipo così puoi iniziare da qua ma c'è pure la ruota qua e quindi non 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 no non non no non non ma ok allora fammi capire questo oh no che testata eh quanto odio ho qua ecco forse ciogliono i pezzi per potenziare quando vuoi potenziare qualcosa in più vediamo dove era qua 30 minuti guarda aspettate un attimo ho visto un video così sono avuto subito potenziale servono soldi quindi va bene ok 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 no no ok 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 missione completa va bene voglio che più o meno è così dai i diamanti i diamanti ok faccio questo e chiudo aspetta però che c'è qua no 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 e cammina ok vedi ci sono anche questi tipo di missioni ok un vestito va bene vediamo un po certo eh ma non ho e se bisogna pagare ah il serbatoio no ok ma sei ricaricato vabbè io ho detto che chiudevo quindi vabbè niente dai meglio che così carino divertente un passatello buon divertimento